buongiorno buongiorno dal dottor Claudio Saracino da benessere l'ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi rispondo ad una signora che pubblicamente su facebook mi sembra ha scritto non mi fido è manipolatorio è meglio andare da uno psicologo bla 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 bene il sottoscritto ha sempre invitato tutti compreso te che mi ascolti ad andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale non da strisce la notizia che può essere anche uno psicologo un medico uno psicoterapeuta uno psichiatra un camice bianco che utilizzi però l'ipnosi vera e professionale certamente non è il metodo di cs perché unico al mondo che non conosce quasi nessuno in occidente però va bene lo stesso perché anche l'ipnosi conformista e commerciale è un'ipnosi vera e professionale di fatto ok per cui vai presso un professionista dell'ipnosi che sia uno psicologo se tu ti fidi di un camice bianco però la mia domanda è se tu le hai provate tutte senza ottenere risultati bene prova l'ipnosi di cs vera e professionale che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo a cui sicuramente questa cara signora si riferisce perché purtroppo ragazzi nell'accezione popolare nella massa su 100 persone 99 pensano all'ipnosi da film all'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo all'ipnosi da zombie da setta da manipolazione bla 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 tutte sciocchezze sciocchezze purtroppo nell'arco dei secoli vuoi per i poteri forti vuoi per business di chi nei circhi nel circo usava l'ipnosi per abbindolare le persone scroccati dei soldi si è arrivati a ragionare in questi termini e in più aggiungo l'auto ipnosi significa auto significa da soli che tu scarichi il file mp3 audio dcs che trovi sul sito www.improlegiassociati.com per te oppure il tuo caro significa che tu da solo e da solo ti auto ipnotizzi quindi non esiste neanche ammesso non concesso la manipolazione da parte di un terzo che sia un camice bianco oppure un mental coach un life coach un console perché anche qui ragazzi dipende in quale paese tu risiedi perché se stai in francia in spagna negli stati uniti a los angeles puoi andare anche per cose un po più gravi anche a chi non è un camice bianco questo non lo sa nessuno quasi nessuno aggiungo che anche nel mondo dell'ipnosi vera professionale bisogna stare attenti ascoltami bene apri le orecchie al fatto che un professionista dell'ipnosi vera professionale sia uno specialista oppure un generalista perché anche nel mondo dell'ipnosi vera professionale esistono i generalisti come in altri ambienti che fanno un po di tutto ma oltre al metodo è importante la parola la suggestione la suggestione dcs ha quasi un secolo di antico sapere proviene da due grandi a dottoressa rina prunini il professor dottor michel anghelgarai miei maestri mentori associati amici di los angeles ti posso garantire che vanno dai 70 a 100 anni queste suggestioni uniche al mondo aggiungo molto potenti molto naturali e senza nessun effetto secondario nessuno perché sono create ad hoc ad arte e non le trovi lo dice il sottoscritto che ha fatto prima di incontrare nel 2008 la dottoressa rina brunini salvando il mio padre da un nipo sclavissimo con l'ipnosi vera professionale l'ipnosi vera professionale riconosciuta come medicina alternativa nel 1958 dalla chiesa con papà più o no nel 1847 per cui nel 1958 l'associazione medica mondiale è stata riconosciuta come medicina alternativa per cui tutti santi crismi ma prima di essere scienza l'ipnosi vera professionale è un'arte e tutti sanno dipingere nel mondo ma pochi sono artisti veri fammi tutte le domande del caso risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi mi impegni puoi andare da chiunque in qualsiasi parte del mondo tu risiedi non sono geloso non sto qui per vendere perché sto bene grazie a dio per le prossime 37 vite la mia mission è quella di diffondere il mio metodo e sappi che con l'ipnosi si vive bene io da più di 12 anni dal 2008 ad oggi a parte aiutare centinaia e centinaia di persone nel mondo online soprattutto mi auto ipnotizzo anche in questo momento sono ipnotizzato anche se non sembra ai comuni mortani ma neanche agli esperti famosi di ipnosi eccetera eccetera visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita clicca sulla campanella per le novità e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesso del dottor Claudio Saracino un bacio un abbraccio e alla prossima ciao ciao